Le ha impedito di partecipare a questi assoluti, però speriamo che guarisca prestissimo perché sicuramente Olga rappresenta uno dei punti di forza della squadra italiana individualista. Lo stesso vale per Laura Zaccilli, invece passiamo dalla novità a una, non mi permetterei di dire anziana, però diciamo una veterana che invece voleva partecipare con uno o due attrezzi ma purtroppo si è fatta male a un polso per cui è qui fra di noi come spettatrice anche per fare il tifo per Fano. La si vede vagamente al fondo dell'inquadratura dietro alla Stefanesco, ma se siete bravi la riconoscete. Ecco, per fare il tifo per Fano, quindi per Alicata, Bini, ah no, non schiavi perché neanche schiavi è potuta venire. Buono anche questo attrezzo della Stefanesco, anche se ha dei punti ancora non...